La situazione della sanità molisana è critica. Si continuano a penalizzare fortemente le aree interne. Si tratta di un esempio di quello che potrebbe succedere anche in altri ambiti con l'autonomia differenziata. Ci batteremo per trovare soluzioni a questo problema. Questo è il commento a caldo del sindaco di Agnone, Daniele Saia, sulla vicenda del 118 della cittadina alto molisana che rimarrà senza medico nelle ore notturne da domani fino al 7 aprile. Una misura disposta per coprire i turni presso l'ospedale veneziale di Isernia, dei quattro medici assegnati al servizio di emergenza urgenza del Caracciolo, due sono stati spostati sulla struttura Pentra, una scelta dettata a quanto pare dal riconoscimento di una maggiore operatività di quest'ultima. Una misura che nasce come soluzione temporanea, che dovrebbe essere in vigore per pochi giorni ma che a quanto sembrerebbe potrebbe prolungarsi per tutto il mese di aprile, data la carenza generalizzata di personale medico e anche a fronte di eventuali assenze dell'attuale organico per ferie, malattia o altro. Questa mattina intanto il primo cittadino di Agnone ha incontrato il direttore generale facente funzioni dell'ASREM, la dottoressa Evelina Gollo, per cercare di far fronte alla problematica. Da parte del DG dell'azienda sanitaria regionale sarebbe stato assicurato massimo impegno per valutare delle alternative. La stessa Gollo avrebbe preannunciato l'intenzione di incontrare la dottoressa Adriana Ricciardi, responsabile della centrale operativa del 118, per trovare una quadra andando ad intervenire con una modifica dei turni. Quella attuale in ogni caso è un'oggettiva situazione di difficoltà in cui si viene a trovare l'utenza, anche in virtù della recente notizia della demedicalizzazione, anche della postazione del 118 di Frosolone, in caso di necessità di un medico nelle ore notturne, quest'ultimo dovrà partire da Isernia, Venafro o Trivento.